Buongiorno, bentrovati per questo webinar sull'insegnamento dell'educazione civica nella scuola secondaria di secondo grado. Forse qualcuno di voi ha già avuto modo di seguire lunedì quello di introduzione generale sulle basi pedagogiche e il contesto normativo dell'educazione civica oggi e che riguardava fondamentalmente le scuole di ogni ordine grado, oggi invece entriamo nello spazio concettuale più specifico della scuola secondaria di primo e di secondo grado. Avvio la condivisione delle mie slide in modo tale che possiamo anche seguire tramite il supporto iconico il ragionamento. Allora, nella lezione scorsa, quella di lunedì, che comunque potete recuperare online, ero partito con una riflessione di Platone che in qualche modo andava a strutturare l'idea della necessità di costruire una specie di città interiore, di costituzione interiorizzata nei bambini, nei ragazzi, attraverso il mezzo educativo. Aristotele, che di Platone fu allievo, nella politica fa una riflessione che apparentemente è molto pragmatica, però particolarmente interessante all'inizio del nostro discorso. Aristotele scriveva che il mezzo più importante per assicurare la stabilità della Costituzione e che al presente tutti trascurano è il sistema di educazione adatto alla Costituzione, perché non c'è nessuna utilità dalle leggi più utili, anche ratificate da tutto il corpo dei cittadini, se questi non saranno abituati ed educati nello spirito della Costituzione, in maniera democratica se le leggi sono democratiche, oligarchica se oligarchiche, e così via. Ci sono due elementi interessanti in questa riflessione di Aristotele. Il primo è che ogni Stato, e lui su questo è abbastanza aperto di pensiero, le costituzioni che possono caratterizzare la struttura profonda di uno Stato sono fondamentalmente sei, monarchia, tirannide, aristocrazia, oligarchia, democrazia, politia. Quindi in qualche modo lui intravede sei possibilità, alcune più rette, altre un po' più degenerate. È chiaro che la tirannide è la degenerazione della monarchia. Ma l'aspetto interessante è che per ognuna di queste tipologie di Costituzione è necessario chiedersi qual è lo stile educativo più adeguato. Per cui è evidente, se una società è democratica, i cittadini dovranno essere educati alla partecipazione. Se una società è monarchica, i sudditi dovranno essere educati a obbedire. Poi Aristotele in realtà ha un pensiero che va oltre questo pragmatismo, ma è interessante, sempre leggendo a titolo esemplificativo nella politica, quando si chiede come mai alcune forme istituzionali durano a lungo e altre invece naufragano dopo poco tempo, dice, ma una delle variabili è l'educazione. Addirittura lui fa l'esempio degli oligarchi di seconda generazione, dice, ma come nasce una oligarchia? Nasce perché vanno al potere quelli che sono più forti, quelli che sono più capaci di prendersi il potere. Solo che i loro figli, se vengono educati nella mollezza, quando saranno grandi non saranno forti e non potranno tenere il potere. È chiaro che nessuno piangerà sulle sorti degli oligarchi di seconda generazione e si rammaricherà per una oligarchia che finisce, ma la cosa interessante è quanto Aristotele vedesse con chiarezza il potere generativo dal punto di vista sociale dell'educazione. A anni di distanza John Dewey, che non vede sei possibili costituzioni, lui ne vede direttamente una, la democrazia, in un testo del 1916 che si diceva, giusto appunto, democrazia ed educazione, Dewey precisa quale dovrebbe essere il rapporto giusto appunto tra democrazia e l'educazione che è necessario mettere in campo in uno stato democratico. Scrive Dewey, una democrazia è qualcosa di più di una forma di governo, è prima di tutto un tipo di vita associata, di esperienza continuamente comunicata, l'estensione nello spazio del numero di individui che partecipano a un interesse in tal guisa che ognuno deve riferire la sua azione a quella degli altri e considerare l'azione degli altri per dare un motivo e una direzione alla sua, equivale all'abbattimento di quelle barriere di classe, di razza, territorio, nazionale e impedivano agli uomini di cogliere appieno il significato della propria attività. E così, mi fermo sul passaggio che ho voluto evidenziare di questa riflessione di John Dewey. Quando io chiedo anche all'università, Dewey è uno degli autori che evidentemente per chi insegna pedagogia all'università è un punto di riferimento necessario e quindi mi capita di mostrare testi come questo anche ai miei studenti all'università. E io chiedo loro di farmi un esempio, da loro direttamente sperimentato, di una decisione democraticamente assunta anche nella vita scolastica. E talvolta o spesso qualcuno di loro mi fa l'esempio, che so, dell'assemblea di classe per decidere dove andare in gita scolastica. E in più di una occasione questi ragazzi mi dicono, ma insomma in fondo abbiamo messo sul tavolo tutte le proposte, poi abbiamo messo ai voti, la maggioranza vince e questa è una decisione democratica. Fatto quell'esempio e rileggendo il testo di Dewey e mi accura far loro notare che in realtà Dewey dice un'altra cosa, che la democrazia non è solo o soprattutto una forma di governo, cioè un sistema pragmatico per risolvere controversie quando non ci si riesce a mettere d'accordo, ma è un modo di pensare e di essere. Quindi in teoria, in una condizione di tipo democratico, il fatto di mettere continuamente ai voti perché non ci si riesce a mettere d'accordo, non è diciamo la condizione abituale, non è la condizione ideale di una democrazia ben riuscita. L'altro elemento che vorrei far notare è questo, Dewey e tutti coloro che hanno fatto studi di tipo pedagogico anche in termini, cioè diciamo non in senso esclusivo, cioè non prendendo una laurea in scienza dell'educazione, molti di noi lo sappiamo, Dewey è il padre dell'attivismo pedagogico e qui mi torna buono il discorso di Aristotele. Per ogni tipologia di costituzione c'è un tipo di educazione. Allora, un'educazione scolastica di tipo passivo, trasmissivo, che rende le persone passive, è adatta a generare sudditi obbedienti, soldati obbedienti, non cittadini attivi di una società democratica. Questo Dewey lo vedeva con grande lucidità e chiarezza già nel 1916 quando scrive questo testo e l'attivismo pedagogico, cioè la proposta di una scuola attiva che parta dagli studenti e non tendenzialmente che li renda passivi, è in fondo, diciamo così, la condizione educativa per poter avere una società democratica. Quindi Dewey è, potremmo dire in sintesi, attivista perché democratico, non democratico e attivista. Le due cose sono strettamente connesse, intimamente legate e sono anche uno spunto di riflessione per noi. Il terzo spunto di riflessione che vorrei rilanciare in partenza, sempre come base concettuale del discorso di oggi, riguarda il modo in cui ciascuno di noi percepisce il proprio esser parte, esser membro di una società. Qui c'è un brano che ho voluto citare di un autore a me molto caro, Gesualdo Nosengo, un pedagogista del ventesimo secolo, è stato anche il fondatore dell'UCIM. Quanto più discendo in me, tanto più trovo gli altri e quanto più mi apro agli altri, tanto più approfondisco me stesso. La socialità è endogena nella persona, anzitutto per una ragione di indigenza. L'indigenza fisica muove l'appetito e il bisogno, come l'indigenza mentale muove la ricerca, come l'indigenza morale muove l'amore. Ma c'è un altro movente che dispone alla socialità oltre l'indigenza, è il contrario di questa, la sovrabbondanza. Non c'è valore della persona umana che possa essere riflessivo senza farsi transitivo, che possa essere transitivo senza farsi riflessivo. Il sapere, il volere, l'amare, tanto più strettamente si accrescono in noi, quanto più generosamente si svolgono per avvolgere gli altri. E troncare il filo dell'intimità sarebbe interrompere la comunione, come troncare il filo della comunione, sarebbe spezzare l'intimità. Questa idea che Nosengo riprende da Jacques Maritain, altro autore particolarmente significativo e a cui dedicherò un'ultima suggestione di riferimento, questa idea di Maritain che viene ripresa da Nosengo è molto importante per concepire in modo corretto il senso della socialità. Spesso si sottolinea il fatto che la convivenza sociale, la convivenza civile serve per venire incontro ai bisogni. È chiaro che noi non potremmo vestirci se non ci fosse qualcuno che fosse in grado di fare i vestiti, non potremmo vivere in un'abitazione se non ci fosse qualcuno in grado di costruirla e così via. Quanto più la società è complessa, tanto più la divisione del lavoro diviene necessaria e quindi anche l'umana socievolezza è necessaria per andare incontro ai bisogni fondamentali. Ma l'indigenza strutturale che ci fa socievoli è tale soprattutto sul piano delle realtà materiali. Sul piano spirituale c'è innanzitutto una naturale sovrabbondanza che vorrei esemplificare in questo modo. Io in questo momento ho una bottiglia d'acqua, è acqua state tranquilli, una bottiglia d'acqua e se fossimo in presenza io potrei offrirla ai presenti. È chiaro che questa bottiglietta da mezzo litro io la potrei condividere solo se la possiamo suddividere. Quindi ognuno se ne prende un centilitro e si beve il centilitro d'acqua. Per i beni materiali le cose funzionano così. Se io invece però in questa riflessione che condivido con voi riuscissi a mettervi a disposizione anche solo una idea, quella idea che dalla mia mente prende forma, si rigenera nella vostra, non viene suddivisa, ma condividendola si moltiplica. Ecco nell'ordine delle cose spirituali le cose funzionano così. Condividere un atto d'amore significa moltiplicarlo, condividere un'idea significa moltiplicarla, non significa suddividerla, non significa spartirla. Ecco quindi che è importante andare alle sorgenti della socialità per coglierne la dimensione anche e soprattutto spirituale. L'ultima sollecitazione iniziale che mi serve a completare questa mini cornice teorica, la cornice teorica più ampia come vi dicevo è quella che ho proposto nel webinar di lunedì scorso, è un'idea alta del bene comune. Traggo questa riflessione da Jacques Maritain che ho già citato anche come fonte di nosengo e vorrei che leggessimo assieme questo bel brano di un'opera del 1948, La persona umana e il bene comune. Ciò che costituisce il bene comune della società politica non sono dunque soltanto l'insieme dei beni o servizi di utilità pubblica o di interesse nazionale, strade, porti, scuole, che presuppone l'organizzazione della vita comune, nelle buone finanze dello Stato, nella sua potenza militare. Non è soltanto il tessuto di leggi giuste, di buone usanze, sagge istituzioni che danno alla nazione la sua struttura, né l'eredità dei grandi ricordi storici, dei suoi simboli, delle sue glorie, delle sue tradizioni vive, dei suoi tesori di cultura. E uno potrebbe già fermarsi qui e dire, beh, se nel bene comune della nostra società chi ne ha la cura garantisse bene anche solo questo, avremmo di che essere contenti. Ma Maritain punta molto più in alto. Il bene comune comprende tutte queste cose, ma anche qualcosa di più profondo, di più concreto e di più umano. Perché racchiude anche, d'anzitutto, la somma o l'integrazione sociologica di tutto ciò che vi è di coscienza, di virtù politiche, di senso del diritto e della libertà, di tutto ciò che vi è di attività, di prosperità materiale, di ricchezze dello spirito, di sapienza ereditaria, messe inconsciamente in opera, di rettitudine morale, di giustizia, amicizia, felicità, virtù, eroismo nelle vite individuali dei membri della comunità. In quanto tutto questo sia in certa misura comunicabile e si riversi in certa misura su ciascuno e aiuti così ciascuno a completare la sua vita e la sua libertà di persona. Tutto ciò costituisce la buona vita umana della moltitudine. Solo un esempio per rendere un po' più concreto, a portata di immaginazione, questo discorso, diciamo, molto pregnante di Jacques Maritain. Lo prendo dall'attualità. In questi giorni noi siamo stati colpiti, tra le altre, dalla notizia del comportamento indegno dei carabinieri, di una stazione Carabinieri di Piacenza. Carabinieri che rappresentano l'arma per eccellenza, l'arma con le forze dell'ordine più diffuse in tutta Italia, più vicina al cittadino, che durante il tempo del Covid, vi ricordate, i carabinieri andavano a prendere la pensione per le persone che non erano in grado di andarsela a prendere o portavano i computer a casa dei bambini per la didattica a distanza. Insomma, quindi in questo senso questo è nell'immaginario comune la rappresentazione che abbiamo, giustamente, dell'arma dei carabinieri. Perché? Ma perché abbiamo questa rappresentazione? Perché tutto ciò che di buono ha fatto ciascuno di loro, nel corso degli oltre 150 anni della loro storia, in qualche modo si è riversato come una specie di capitale morale su tutto il gruppo, sull'arma. È chiaro che nel momento in cui invece qualcuno è indegno di questa eredità, di questo capitale morale, giustamente subito il comandante generale dell'arma dei carabinieri ha detto che queste persone non sono degne di portare la divisa, cioè non sono degne di far parte di questa comunità, suppongo verranno presto radiati tra le altre cose, spero anche che paghino per i loro misfatti. Quindi nel bene e nel male potremmo dire tutto ciò che di virtù, sapienza, in qualche modo appartiene ai membri di una comunità, si riversa su tutti e su ciascuno e allo stesso modo evidentemente anche il loro contrario. Ecco, questo è importante visualizzarlo perché è una consapevolezza molto potente dal punto di vista educativo e ritornerà in uno dei passaggi della mia proposta di curriculum di educazione civica. Completo, come dicevo, questa cornice iniziale segnalando che tengo sullo sfondo tre documenti dell'Unione Europea, due documenti dell'ONU che ovviamente non presenterò in modo analitico ma che vorrei che al di là delle indicazioni, delle linee guida del Ministero, che poi saranno invece il testo sulla base del quale andremo a svolgere le nostre proposte di progettazione curricolare, però vorrei che tenessimo anche questi documenti un poco sullo sfondo, nel background mentale che ci accompagna in questo lavoro. Allora, tutti conosciamo, perché ha avuto buona fortuna anche nella normativa scolastica, la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Nel 2016, forse meno conosciuto, il Consiglio d'Europa ha prodotto un documento sulle competenze per una cultura della democrazia a cui farò riferimento e ovviamente nel 2018 abbiamo avuto la revisione della raccomandazione del 2006 e quindi la nuova raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente. A livello di ONU noi abbiamo un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ancora dagli anni 90 ha iniziato a parlare di life skills, quindi competenze per la vita e evidentemente Agenda 2030 approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 con i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile in vista del 2030, da raggiungere entro il 2030. Questo è lo scenario dentro cui ci muoviamo al di là e assieme alle indicazioni del Ministero dell'Istruzione. Dalla raccomandazione del 2006 non trago nulla, da quella del 2018 che l'ha riformata vorrei far notare che ci sono due di queste competenze chiave che in qualche modo ci riguardano. Una è la competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare che lega assieme la capacità di riflettere su se stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni e qui entriamo nel mondo delle life skills, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e quindi di riflesso gestire il proprio apprendimento. E quindi c'è una competenza personale e sociale che si esprime anche nella capacità di imparare a imparare, che va coltivata, che è oggetto della nostra attenzione educativa e c'è una competenza in materia di cittadinanza che si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture, dei concetti sociali, economici, giuridici, politici, oltre che dell'evoluzione a livello globale della sostenibilità. Sono i grandi temi dell'educazione civica che però, come dicevo poc'anzi, si innestano anche non solo in una dimensione di tipo cognitivo, come potrebbe apparire a una prima lettura di questa sesta competenza, ma in una dimensione diciamo di tipo più sapienziale, operativo, esistenziale, come mi aiuta a pensare la competenza numero 5 che abbiamo appena letto. Le competenze per una cultura della democrazia, il documento del Consiglio d'Europa uscito nel 2016, tradotto in italiano nel 2017, qui cito dall'edizione italiana, per me è interessante perché ogni competenza legata a una cultura della democrazia, o se vogliamo parlare di una macro competenza per una cultura della democrazia, qui tra l'altro il concetto di competenza, ma non è questa la sede per affrontarlo, è un concetto ombrello che in questo momento sia la normativa scolastica, sia le vulgate formative, sia le prassi di progettazione più o meno burocraticamente attrezzate, stanno tirando un po' di qua, un po' di là e rischia di essere uno di quei concetti che tutti hanno sulla bocca ma non tutti ugualmente nella mente, però ha ogni giorno la sua pena, non è questo l'oggetto della nostra riflessione di oggi, quindi ogni competenza di area sociale e civica, diciamo così, è come una farfalla, l'immagine è stata paragonata a questo, che può spiccare il volo se valeva su quattro elementi, atteggiamenti, attitudini, valori, conoscenze e comprensione critica, cioè una competenza di cittadinanza, una competenza per una cultura della democrazia non può limitarsi per esempio alle conoscenze di area sociale e civica, ma deve sempre e simultaneamente chiamare a raccolta conoscenze, attitudini, atteggiamenti e valori. Ecco, tutto questo assieme può far volare le nostre competenze di cittadinanza. Solo l'uno o solo l'altro di questi elementi evidentemente rimane un'indicazione più statica, meno dinamica. I documenti ovviamente sono di facile reperibilità e quindi potete approfondire ciascuno di questi elementi anche andando direttamente a consultare i documenti che ho citato. Adesso, ultimo documento a cui faccio cenno, la grande utopia di Agenda 2030. Sono 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2015 e da raggiungere entro il 2030. Questi 17 obiettivi li elenco di seguito, quindi porre fine alla povertà, zerare la fame, garantire salute, offrire un'educazione di qualità, eguaglianza di genere, condizioni. Insomma, come vedete, c'è un menu molto ampio, molto articolato. Ecco, qui, al di là, io ho utilizzato il termine utopia, perché il lessico è quello quasi aziendale dell'obiettivo da raggiungere, il contenuto degli obiettivi sembra molto elevato, ma questo non ci esime da fare la nostra parte, la nostra parte per promuoverli. In realtà, però, visto che noi lavoriamo nella scuola, in realtà Agenda 2030 si è assunta non tanto come un programma di marcia che i nostri ragazzi debbono mettere in atto entro, non so, ma per quest'anno dati questo obiettivo, ma come una paideia di riferimento, cioè una visione complessiva di come il cittadino del mondo è chiamato ad abitare quel mondo di cui è cittadino, effettivamente Agenda 2030 ci offre una bella paideia di una cittadinanza mondiale che va ad aggiungersi a quella paideia costituzionale di cui abbiamo parlato la volta scorsa e che è un po' il cuore pulsante dell'educazione civica in Italia, come abbiamo visto lunedì e a quel webinar, al primo dei webinar di questo ciclo, eventualmente per approfondire questo aspetto di rimasto. Qual è quindi lo spazio progettuale in cui ci collochiamo noi, tenendo conto anche di queste ulteriori suggestioni che ho voluto chiamare a raccolta? Noi dobbiamo lavorare su un curriculum di istituto di educazione civica che ovviamente si inserisce all'interno del curriculum di istituto che già va a strutturarsi nel piano triennale dell'offerta formativa. Teniamo però presente che come per tutto, più ancora per l'educazione civica, noi avremo un curriculum esplicito e di questo oggi ci occupiamo, ma abbiamo anche un curriculum implicito di educazione civica che è già scritto nelle passi consolidate della nostra scuola, nel regolamento di istituto, nel modo in cui viene gestito il patto educativo di corresponsabilità, nel modo in cui vengono gestiti gli spazi di partecipazione degli studenti. Cioè tutto questo è già un curriculum implicito nel modo in cui i nostri studenti di scuola cattolica vivono il senso di appartenenza alla comunità scolastica di cui fanno parte. Quindi questi elementi che noi magari abbiamo già curato, a prescindere perché ci teniamo e ci teniamo perché sono cose importanti, entrano nel curriculum di istituto. Si tratterà di valorizzarne le potenzialità perché già fanno parte del nostro curriculum implicito di educazione civica. A questo punto è chiaro che nella progettazione di ogni classe ci saranno i piani di lavoro dei docenti e ci saranno le modalità con cui classe per classe decidiamo di gestire le 33 ore, almeno 33 ore, del monte ore di educazione civica. Tutto questo però non finisce lì perché la domanda finale, per questo sono voluto partire la volta scorsa da Platone, oggi da Aristotele e di Uri, è quello che sarà il curriculum interiorizzato da ciascuno degli allievi, cioè qual è il senso di cittadinanza che ognuno degli allievi porterà con sé al termine del percorso che fa nella nostra scuola. Quindi è chiaro che ci saranno le esperienze formative di cui sarà consapevole, le esperienze formative che intercetterà indirettamente, formative anche in senso negativo e che quindi dovrà essere in grado di rileggere in senso critico e rimetabolizzare in altro modo. Ci sarà la valutazione che daremo della disciplina e ci sarà l'autovalutazione di ogni studente che dovrà poter dire di se stesso in che modo sta crescendo. Nel Vangelo si dice in età sapienza e grazia. Qui bisognerà dire in cultura, professionalità e anche cittadinanza. Ecco, questo a mio avviso è lo spazio dentro a cui ci andiamo a collocare. Il curriculum di istituto, abbiamo detto, è, l'abbiamo detto lunedì scorso, scusate ogni tanto faccio riferimento all'altro webinar perché intanto l'ho tenuto da poco ma soprattutto suppongo che alcuni dei presenti lo abbiano seguito anche se le cose essenziali che servono oggi le ridico. Quindi niente di preoccupante, l'unica cosa per chi l'ha già sentito rinvio a uno spazio più approfondito nel webinar fondativo, diciamo. Nelle linee guida che il ministero ha emanato il 22 giugno 2020 in attuazione della legge 92 del 2019 che è quella che istituisce l'insegnamento traversale dell'educazione civica, in quelle linee guida in teoria il ministero avrebbe dovuto, ed è questo che dice la legge, articolo 3, avrebbe dovuto indicare obiettivi di apprendimento e traguardi per lo sviluppo delle competenze per tutti i livelli scolastici. Questo era quello che avrebbe dovuto fare il gruppo di lavoro ministeriale e che avrebbe dovuto fare quindi il ministero con l'emanazione delle linee guida. Linee guida sono state lungamente attese, sono arrivate nel cuore dell'estate, il 22 di giugno, di un anno peraltro un po' particolare, covid, didattica a distanza e quant'altro, e mancano di quello che era l'elemento essenziale. Allora, quindi è chiaro che questa mancanza viene poi, come spesso capita, riversata sulle scuole, istituzioni scolastiche autonome, quindi statali o paritarie, da questo punto di vista non vi è differenza, che quindi devono, e qui dice l'allegato A, cioè le linee guida del ministero, collegio docenti nell'osservanza dei nuovi traguardi del profilo finale del rispettivo ciclo di istituzione definiti nelle presenti linee guida, allegati a BC che ne sono parte integrante, provvede nell'esercizio dell'autonomia di sperimentazione di cui è l'articolo 6 DPR 27599 a integrare nel curriculum di istituto gli obiettivi specifici di apprendimento e risultati di apprendimento delle singole discipline con gli obiettivi, risultati e traguardi specifici per l'educazione civica, utilizzando per la loro attuazione l'organico dell'autonomia. Quindi la prima operazione che ogni scuola deve fare è quella di scrivere un addendum al curriculum di istituto con gli obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze specifici per l'educazione civica. Questo è un compito che la norma attribuisce alle istituzioni scolastiche. Buona notizia è che i vincoli non sono molti e quindi è chiaro che ogni scuola potrà anche avere una certa libertà di interpretazione di questo mandato, tant'è vero che le linee guida del Ministero prevedono tre anni di sperimentazione in cui le scuole faranno quello che c'è scritto qui, quindi redigono questo curriculum di istituto, faranno quello che c'è scritto qui, ma al termine di questo triennio di sperimentazione, che inizia con l'anno scolastico 2021, naturalmente il Ministero dovrebbe emanare le linee guida con anche obiettivi e traguardi e eventualmente ci si augura recependo quanto di meglio emergerà dalla libera sperimentazione delle scuole autonome. Il Ministero non ha previsto, quantomeno per ora non ne ho notizia, una sperimentazione nazionale in questo senso. Nel webinar di lunedì scorso abbiamo ipotizzato che la FIDE come tale potrebbe comunque fare da punto di riferimento per le istituzioni scolastiche autonome collegate, aderenti alla FIDE, in modo tale che quello che ciascuna di esse avrà elaborato in via ipotetica, eventualmente anche aggiustato nel corso del tempo, possa poi essere monitorato ed eventualmente diventare oggetto anche proposta al Ministero. che potrebbe essere, ci siamo detti la volta scorsa, una proposta FIDE per, diciamo, andare incontro a quella che è una lacuna deliberatamente prevista nelle linee guida e che quindi nell'arco di tre anni andrà anche colmata. Come si procede per la progettazione di istituto? Qui, scusate, sarò molto pragmatico, anche concreto spero. Il primo passo, tra l'altro io in questo momento sto lavorando con qualche scuola che lavora esattamente in questo modo, quindi ho anche in mente concretamente nomi, volti di persone che stanno lavorando in questo modo. Il primo passo è quello di costituire ovviamente una commissione che raccolga colui che sarà individuato come referente a livello di istituto e coloro che in qualche modo si suppone potrebbero essere i responsabili di classe per questo insegnamento. L'insegnamento prevede che volendo tutti i docenti contribuiscano dal punto di vista culturale e volendo portino un contributo anche dal punto di vista valutativo, ma ci vuole uno che ne abbia la responsabilità per ogni classe, che verosimilmente sarà quello che sarà il maggior numero di ore di educazione civica in senso stretto. E quindi a mio avviso il fatto di raccogliere il referente di istituto e i referenti di classe in una commissione, a mio avviso, è la cosa più semplice pragmaticamente parlando. La commissione elabora alcune ipotesi di organizzazione del curriculum da sottoporre chiaramente al collegio docenti. Il collegio vaglia le proposte della commissione sulle modalità generali di organizzazione di questo curriculum e ovviamente delega i consigli di classe per la progettazione di dettaglio. In realtà prima dei consigli di classe io penserei a un passaggio per i dipartimenti disciplinari, per cui il discorso è questo ed è anche quello che ho visto nelle scuole con cui sto lavorando in questo periodo. Il discorso è che ogni dipartimento disciplinare può formulare una sua ipotesi, cioè bisogna incrociare alcune linee verticali con alcune linee orizzontali e fare un cruciverba, qualcuno mi dirà. Cioè nel senso che ogni dipartimento disciplinare individua alcuni macro temi di educazione civica che in quelle discipline juxta propria principia starebbero di casa da una parte o dall'altra del percorso formativo. Faccio un esempio banale, io prima di insegnare pedagogia all'università sono stato insegnante di storia e di filosofia nei licei per vent'anni e quindi in questo senso penso alla storia e alla filosofia nel triennio dei licei come spazio esemplificativo che mi può essere d'aiuto. Allora è chiaro che io potrei dire da prof di storia quando è che parlo della Costituzione? Boh in quinta, quando la affronto dal punto di vista storico, l'assemblea costituente o cose del genere. Come prof di filosofia potrei dire quando è che parlo di alcuni temi che riguardano la cittadinanza, le leggi e così via, ma fin dalla terza nel momento in cui c'è Socrate, c'è Platone, c'è Aristotele, ve li ho anche citati, insomma chiaramente sono tutti autori che mi introducono tematiche di grande portata sociale civica. Naturalmente però io sto parlando da prof di storia e filosofia e quindi questi temi di educazione civica sono prima un argomento di storia o un argomento di filosofia, poi indirettamente diventano una suggestione trasversale nell'ambito dell'educazione alla cittadinanza. Però da qualcosa bisogna partire, quindi la prima ipotesi è come i dipartimenti disciplinari scandirebbero nel tempo alcune delle principali tematiche attinenti all'educazione civica che gli insegnanti di quelle discipline ritengono di potere o dover presidiare. I consigli di classe dovrebbero fare il punto dal punto di vista orizzontale, perché è chiaro che se noi ci limitiamo a fare una specie di sommatoria per giusta posizione di quel che salta fuori dai dipartimenti disciplinari, noi non abbiamo il quadro organico di una disciplina. Noi abbiamo tanti pezzetti affastellati che stanno insieme senza arte né parte, diciamo così. Quindi è chiaro che la seconda operazione è quella da parte di consigli di cercare di cercare di vedere anno per anno come stanno assieme e eventualmente se qualche proposta possa essere più utile in un anno precedente o in un anno successivo, anche retroagendo sul lavoro dei dipartimenti disciplinari. Perché non è detto che il modo in cui siamo abituati a fare le cose sia un modo stabile, eterno per sempre. Tra l'altro vi ho citato Dewey e la didattica attiva proprio per far pensare anche a un modo di intendere le discipline che non sia semplicemente l'erogazione di un programma immutabile nunc et pro sempre. Quindi il consiglio di classe elaborano le proposte formative specifiche per l'anno in corso a partire dalle ipotesi predisposte ai dipartimenti, ma anche tenendo conto anche di altri variabili, come per esempio la coerenza complessiva dell'offerta formativa, la forza che possono avere alcuni agganci interdisciplinari, per cui se più discipline convergono su alcuni nuclei forti, allora valorizziamo soprattutto quelli. Questa commissione specifica, quella che ho detto all'inizio, dovrebbe raccogliere le proposte formative che verranno messe in atto quest'anno per verificarne la coerenza complessiva, la completezza di trattazione rispetto ai temi fondamentali, possibili aggiustamenti da condividere, anche da restituire ai dipartimenti disciplinari perché il prossimo anno si possano portare gli adeguamenti opportuni e in qualche modo individuare i bisogni formativi dei docenti per procedere ad azioni di formazione in servizio mirate. Chiaro che per me quest'anno bisognerebbe anche dal punto di vista formativo lavorare un po' significativamente sull'educazione civica. Come dire, se non ora, quando? Poi l'educazione civica piace da tempo, in realtà ci lavoro già da tempo, però come proposta a voi direi che quest'anno è un anno, è un kairos, un tempo opportuno anche per lavorare sull'educazione civica dal punto di vista della formazione docente. Arrivo quindi, fatta questa analisi di tipo procedurale dei vari passaggi, a proporre quello che personalmente considero, spero, un modello sostenibile per questo triennio di sperimentazione, quindi prevedendo una certa flessibilità nell'attuazione. Preciso il senso del mio dire, è improbabile che con le linee guido uscite a fine giugno. Un ragionamento che stiamo facendo adesso a fine luglio, noi il primo settembre abbiamo già definito quel curriculum di istituto che non avrà più bisogno di nessun aggiustamento, perché l'abbiamo già pensato talmente bene che non ci sarà bisogno di nessun aggiustamento, curriculum di istituto ed educazione civica. Io sono convinto che questi tre anni, visto che ci sono dati, tanto vale prenderseli per questa sperimentazione triennale. Quindi io lavorerei per approssimazioni progressive, quindi in primo luogo e soprattutto per quest'anno, che è il primo anno di prima attuazione, effettuare una ricognizione preliminare. questa commissione, i temi di educazione civica che vengono già affrontati nelle discipline. Ci sono alcune cose che alcune discipline già fanno, le fanno per tradizione, le fanno bene, le fanno perché quell'insegnante ci tiene tanto e quindi l'ha sempre messa in atto e così via. Quindi alcune cose che già ci sono, facciamo l'appello e vediamo quello che già c'è. Quindi i temi di educazione civica che già vengono affrontati. Semplicemente cerchiamo di mettere nero su bianco, di capire chi fa cosa. Anche perché magari diventa interessante vedere che se io una cosa la potrei fare, parlo per esempio delle superiori o delle medie in prima o in seconda, vedo che un collega ci lavora tantissimo e che deve lavorarci per forza in seconda, mi sposto in seconda anche io, perché no? L'altro elemento sono alcuni progetti educativi trasversali più consolidati e significativi. Cioè ognuna delle nostre scuole ha magari nel tempo abbracciato, che so, un progetto di educazione alla legalità, lotta alla mafia, contro il cyberbullismo. Ci sono, diciamo, alcuni progetti educativi trasversali dell'area educazione civica, delle tematiche attinenti all'educazione civica, che effettivamente possono essere, diciamo, più... Cioè, noi li abbiamo sempre fatti perché ci abbiamo sempre creduto, a questo punto cerchiamo di farli rientrare dentro all'offerta formativa specifica di educazione civica. Così, tra l'altro, ci porremmo anche il problema di come valutare ciò che ciascuno apprende anche in questi progetti educativi trasversali. A questo punto, diciamo, però, manca l'elemento più importante. L'elemento più importante. Cioè manca l'anima sapienziale della disciplina. Cioè... La somma delle suggestioni disciplinari e dei progetti trasversali da sola, da sola, non produce una disciplina. Ma è solo una somma di sollecitazioni. Quindi, il problema è che, perché questa disciplina abbia un'anima, bisogna identificare i dispositivi euristici, dispositivi concettuali che possano dare unità agli elementi essenziali dell'offerta formativa, anche valorizzando quello che già c'è, perché così non dobbiamo ripartire proprio da zero. Ho usato come sottotitolo un film di Troisi, ricomincio da tren, che a mio avviso, da un lato, quest'anima sapienziale della disciplina, ne abbiamo parlato nel webinar scorso, da un lato fa riferimento a una paideia basata sulla Costituzione, sulla dichiarazione ONU del 48 e su Agenda 2030, rinvio al webinar scorso per approfondire quest'idea, dall'altro lato, visto che siamo scuola cattolica, ebbè, perbacco, c'è tutto il riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, tutta la grandissima ricchezza della dottrina sociale della Chiesa. E quindi è necessario che ogni anno, in qualche modo, cioè che andiamo, che ci sia un percorso verticale, che in qualche modo, anno per anno, nei tre anni della scuola secondaria di primo, e nei cinque anni della scuola secondaria di secondo, vada a lavorare su questi dispositivi euristici, che sono l'anima sapienziale della disciplina, e che in qualche modo servono a dare unità a tutto il percorso. Perché se no, avremo solo una specie di melting pot, di insalata un po' confusa, di suggestioni sviluppate nelle varie discipline, progetti e progettini che si incrociano, e alla fine, nella mente e nel cuore dello studente, rimangono tante sollecitazioni tra loro disgregate, ma senza una unità sapienziale di riferimento. E quindi il problema è che noi dovremmo delle 33 ore di un anno, per essere concreti, dovremmo delle 33 ore che sono previste per ogni anno, immaginare che ve ne sia un certo numero, adesso io non voglio dare i numeri, anche perché detta così sembra uscire di senno, ma diciamo che se di 33 ore almeno stiamo parlando per ogni anno, ve ne dovrebbero essere una quindicina, non meno di dieci, che in qualche modo svolgano una sorta di narrazione disciplinare specifica dell'educazione civica, oltre a quel che viene dalle varie discipline, oltre a quel che arriva da progetti e progettini, per cui una parte, anno per anno, ci sia, non dico un programma da svolgere, perché il Ministero non ha dato l'indicazione specifica e vincolante di obiettivi e traguardi, però noi ce li dobbiamo dare, anche in quel senso, cioè non solo desumerli per via induttiva da ciò che già si fa, ma anche incrociarli con un'idea della disciplina che dovremmo avere chiara per primi noi nella mente, ma su questo ancora dirò qualcosa perché in parte siamo qui per questo, e a un certo punto verificare, e vedremo rispetto a cosa, la completezza dei temi, perché non è che se per caso in una scuola tutti gli insegnanti sono fissati con l'educazione ambientale per cinque anni di scuola superiore, facciamo sempre educazione ambientale, un anno il riciclaggio, un altro anno i rifiuti, un altro anno il riscaldamento globale, un altro anno invitiamo Greta Thunberg, non so cosa, e della Costituzione non parliamo mai, quindi in qualche modo è importante che ci sia anche, diciamo, una plausibilità culturale complessiva anche in rapporto alla completezza dei temi. Quindi questa è, in estrema sintesi, tramite appunto questa mappa concettuale, quello che riterrei un modello disciplinare sostenibile per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Tornando sull'anima sapienziale della disciplina, elemento che ho voluto mettere al centro dello schema di qui sopra, è essenziale che questo insegnamento non rappresenti solo una sequenza più o meno ben ordinata di contenuti, magari trattati nelle discipline come parte del discorso specifico della disciplina. È essenziale che abbia un'anima, una paideia di riferimento in cui il Magistero della Chiesa, a questo punto io credo sia importante che giochi davvero un ruolo essenziale. Potremmo dire che comunque ci vuole una scienza rectrix che dà unità a tutto il resto e che sia in grado di conferire unità sapienziale a tutti i contributi che potranno venire dalla disciplina e anche dai progetti qualificanti. Ricordo, per chi non li avesse proprio sulla punta della lingua, assieme alla Costituzione, che do per nota, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dell'ONU, che do per nota, ad Agenda 2030, che do per nota o quasi, perché ormai se ne parla da tempo, ricordo i principi della dottrina sociale della Chiesa, che qui riassumo in estrema sintesi, sempre con lo strumento della mappa concettuale, che diventano, a mio avviso, il valore aggiunto che le scuole cattoliche possono portare nell'organizzazione culturale di una disciplina come questa. e quindi il fondamento, la persona creata a immagine e somiglianza di Dio e la persona umana come soggetto libero, spirituale, aperto alla trascendenza, unica, ognuno è unico, socievole per natura, ne abbiamo già parlato nella prima parte di questo webinar, e la dignità della persona, come dice anche il preambolo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'ONU, è anche il fondamento dei diritti umani. Tutto questo trova, voi potete far riferimento al codice per la dottrina sociale della Chiesa, che sintetizza un po' con tutti i contributi delle varie encicliche che sono uscite nell'arco di oltre cent'anni di storia della dottrina sociale della Chiesa, quindi in qualche modo questa prima parte di questo codice della dottrina sociale della Chiesa che in qualche modo si sofferma sulla persona umana come immagine di Dio. I principi veri e propri della dottrina sociale della Chiesa sono il principio del bene comune, cioè un riferimento forte al bene comune. Io qui non ho null'altro da aggiungere, troverete dei riferimenti magisteriali evidentemente, ma non ho null'altro da aggiungere se non suggerirvi di scorrere le slide un po' all'indietro e riprendervi quella in cui vi presento l'idea del bene comune secondo Jacques Maritain, che ovviamente si è nutrito profondamente di un'idea di persone del magistero sociale della Chiesa che ritrovate nella definizione di Maritain. La destinazione universale dei beni terreni. I beni terreni, tutti i beni terreni, hanno per natura una loro destinazione universale. Pro tempore può esserci un uso privato di alcuni di essi, da parte di alcuni. Una volta che mi sono costruito una casa, diciamo che quella è casa mia. Ma nel momento, ma in generale, i beni della Terra non sono di qualcuno, sono di Dio e destinati a tutto il genere umano. Quindi se qualcuno ne viene ingiustamente privato è un atto di giustizia il riportare questa destinazione universale dei beni della Terra. Il principio di sussidiarietà. Il principio di sussidiarietà è un elemento centrale della dottrina della Chiesa. Nel mondo della scuola cattolica è anche un tema ricorrente che per lo più viene applicato e collegato al principio di libertà di educazione e all'idea che le famiglie, per esempio, dovrebbero poter scegliere la scuola che ritengono più adatta rispetto al progetto educativo che loro stesse hanno nei confronti dei propri figli. E quindi, da questo punto di vista, credo di sfondare una porta aperta nel sottolineare l'importanza del principio di sussidiarietà. È evidente che in un corso di educazione civica uno spazio vada dedicato al principio di sussidiarietà come uno dei principi cardine della dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo, inoltre, il principio di solidarietà. Spesso c'è una retorica della solidarietà. Nella dottrina sociale della Chiesa il principio di solidarietà non è un generico volemose bene che rimanda ad una retorica della solidarietà, ma è un principio vero e proprio vincolante vincolante per cui c'è un dovere di solidarietà di cui peraltro parla anche la Costituzione della Repubblica Italiana La Costituzione della Repubblica Italiana recepisce tra i principi fondamentali il dovere della solidarietà mentre il principio di sussidiarietà è stato inserito nella Costituzione non tra i principi fondamentali non tra i primi tredici articoli e solo nel 2001 la riforma del titolo quinto della Costituzione però a questo punto nella Costituzione c'è finito alla fine anche il principio di sussidiarietà però tra l'altro diventa anche interessante utilizzare questi principi della dottrina sociale della Chiesa in un gioco di specchi per leggere anche gli altri documenti di cui ho parlato cioè la Costituzione la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e Agenda 2030 c'è il principio di partecipazione che comporta un riferimento ai valori fondamentali della vita sociale ci sono alcuni valori che sono alla base della vita sociale che sono la verità la libertà e la giustizia cioè una società non può esistere se non si fonda su questi tre valori guardate c'è una bellissima espressione che ritroviamo in Sant'Agostino di Ippona nella città di Dio che ad un certo punto si chiede dice ma se manca la giustizia che cosa sono gli stati se non ben organizzate compagnie di briganti cioè che differenza c'è tra una ben organizzata compagnia di briganti la nave dei pirati potremmo dire e uno stato che ci sono delle leggi le leggi ci sono anche nella nave dei pirati che ci sono delle pene per chi trasgredisce perché vai nella nave dei pirati guarda cosa succede a chi trasgredisce che c'è una redistribuzione del bottino questa c'è anche nella nave dei pirati e quindi alla fin fine che cosa caratterizza di per sé la ordinata convivenza del genere umano e che è diverso rispetto alla nave dei pirati o alla ben organizzata compagnia di briganti questi valori di riferimento la verità la libertà la giustizia ecco io credo che questo questo nucleo concettuale che ho sintetizzato nei principi della dottrina sociale della chiesa assieme agli altri elementi di cui ho parlato la costituzione la dichiarazione dell'onu agenda 20-30 vada a costituire quella paideia di riferimento complessivo l'anima sapienziale della disciplina che deve diventare oggetto di insegnamento esplicito cioè non è che semplicemente queste cose ce le abbiamo nella mente e nel cuore noi insegnanti e gli studenti non lo sapranno mai cioè terremo rigorosamente il segreto no è importante che anche lo studente soprattutto in una scuola cattolica si renda conto che lì l'educazione civica ha anche questi punti di riferimento e questo sarebbe importante torno un attimo scusate al mio schema generale abbiamo detto anima sapienziale della disciplina che costruisca un percorso verticale sui dispositivi euristici cioè questi elementi che ho qui indicato e a un certo punto verificare la completezza dei temi allora come ho detto già noi non disponiamo di obiettivi e traguardi definiti dalle linee guida ministeriali perché questo compito non l'hanno assolto però il documento ministeriale decreto 35 decreto ministeriale 35 del 22 giugno 2020 a cui sto facendo riferimento che ho illustrato nel webinar scorso nelle sue linee essenziali ecco che ha altri due allegati cioè le integrazioni al profilo tanto del primo ciclo come del secondo ciclo in realtà devo dire una cosa scusate io parlo con molta schiettezza le integrazioni al profilo del primo come del secondo ciclo a mio avviso parlo da pedagogista sono un po' ridondanti rispetto al genere letterario con cui sono scritti i profili per cui nei profili già scritti c'era già un riferimento implicito a temi di area sociale e civica che a mio avviso non necessitava di chissà quali integrazioni perché il profilo dello studente deve essere di per sé un documento di sintesi però probabilmente visto che gli estensori di queste linee guida si sono resi conto che stavano omettendo una cosa cioè gli obiettivi e i traguardi allora cosa hanno fatto? Hanno fatto hanno sono un po' allargati nella redazione delle integrazioni del profilo per cui effettivamente se andiamo a prendere i temi della integrazione del profilo del primo ciclo ve li ho distribuiti su due slide perché sono abbastanza sono quelli che trovate nell'allegato B del decreto ministeriale 35 del 2020 e se l'alunno al termine del primo ciclo comprende i concetti di prendersi cura di sé della comunità dell'ambiente è consapevole che i principi di solidarietà o uguaglianza rispetto sono i pilastri che sostengono la convivenza civile favoriscono la costruzione di un futuro eco e sostenibile comprende il concetto di Stato regione città metropolitana comuni e municipi riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano rapporti fra cittadini principi di libertà sanciti dalla Costituzione italiana le carte internazionali principi della Costituzione gli elementi essenziali della forma di Stato e di governo comprende la necessità di uno sviluppo eco e sostenibile rispettoso dell'ecosistema l'uso consapevole delle risorse sia sempre nella scuola media nella secondaria di primo grado promuove il rispetto degli altri riconosce le fonti energetiche il riciclaggio è in grado di distinguere i device e utilizzarli correttamente è in grado di comprendere il concetto di dato eccetera sa distinguere io direi che prendendo questi temi così come sono scritti nell'allegato B noi abbiamo una buona checklist per andare a fare quell'operazione scusate se torno indietro che vi ho descritto qua cioè una volta che siamo certi di avere presidiato l'anima sapienziale della disciplina tra le 15 ore le 20 ore che dedichiamo al lavoro di proposta culturale specifica di educazione civica e i vari temi che vengono già affrontati nelle varie discipline o i progetti trasversali più consolidati o che altro alla fine facciamo una checklist e andiamo a vedere se nell'arco del triennio sto parlando della scuola secondaria di primo grado o nell'arco del quinquennio per la secondaria di secondo grado più o meno comunque almeno i temi che sono indicati nell'allegato B e nell'allegato C del decreto ministeriale ci sono tutti ecco questa operazione che nel mio meccanismo procedurale sarebbe l'ultimo passaggio del lavoro della commissione specifica dopo avere raccolto ciò che è stato elaborato dai dipartimenti disciplinari dei consigli di classe nei termini che ci siamo detti ecco a mio avviso effettivamente questa checklist che viene dagli allegati B e C integrazione del profilo del primo ciclo e allegato C integrazione del profilo del secondo ciclo tanto semplicemente il copia e incolla dell'allegato C anche qui in due slide come vedete conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari consapevoli del valore delle regole esercitare le modalità di rappresentanza partecipare come vedete qui si mescolano conoscenze abilità attitudini competenze sociali e civiche perché la capacità di partecipare al dibattito culturale non è la stessa cosa che dire so quali sono diciamo le istituzioni in cui si articola la Repubblica italiana insomma è tutto in un'unica lista stiamo parlando anche di cose un po' diverse però cogliere la complessità dei problemi esistenziali morali politici prendere coscienza delle situazioni forme del disagio giovanile e così via poi anche qui rispettare l'ambiente la sicurezza di sé degli altri nell'ambiente in cui si vive quindi anche i corsi di primo soccorso i corsi sulla sicurezza li possiamo infilare dentro l'educazione civica il principio di legalità la cittadinanza digitale la conoscenza diretta di agenda 20-30 e così via e ovviamente il rispetto del patrimonio culturale articolo 9 della Costituzione uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione quindi per andare a vedere questa check list se più o meno quello che abbiamo pensato nell'insieme non dimentica nulla di importante anche qui abbiamo una check list significativa io ho voluto aggiungere a queste due check list molto così elaborate con questa modalità in allegato al documento ministeriale ho voluto aggiungere una proposta culturale che è quella che collega Luciano Corradini abbiamo anche tradotto in un testo di educazione civica che in questo caso è per le scuole superiori dal mio punto di vista la logica è che più o meno si tratta di organizzare tutti i grandi temi di cui vi ho fin qui parlato in una sequenza logica e possibilmente ben ordinata non so se quella che abbiamo proposto Luciano e Dio si possa considerare tale però noi ovviamente ci abbiamo provato e quindi noi abbiamo pensato questo che per tutto il percorso dei tre anni della scuola secondaria di primo e cinque della secondaria di secondo noi abbiamo fondamentalmente tre aghi magnetici per una specie di bussola che ci aiuta a orientarci in tutti questi temi quindi sempre in ogni momento lo studente sa che la costituzione italiana la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e gli obiettivi per l'agenda 2030 sono sempre lì da qualche parte quindi in qualche modo c'entrano sempre diciamo così quindi se c'è un qualsiasi tema a cui fa riferimento anche un articolo della costituzione anche un articolo della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo quindi io non aspetterò a parlare della costituzione di esserci arrivato col programma di storia ma la introduco fin da subito nel percorso di educazione civica e la stessa cosa per gli altri due documenti che in qualche modo mi accompagnano sempre come aghi magnetici di una bussola che serva a orientarsi e ho provato a indicare anche un percorso un po' sistematico questi temi che abbiamo visto nel testo noi li organizziamo in questo modo la socialità umana la famiglia gli amici la scuola il web come luogo di relazioni diritti doveri e responsabilità doveri nei confronti dell'ambiente le regole per vivere in rete i principi della costituzione il diritto al lavoro e alla salute la tutela del patrimonio culturale lotta alle mafie all'illegalità l'organizzazione dello stato il potere giudiziario il diritto di voto e la partecipazione il sogno dell'unione europea l'ONU la pace e i diritti umani ricchezza povertà globalizzazione agenda 2030 allora premesso che i tre documenti in realtà centrano sempre prevedere questa è una previsione nell'arco di cinque anni che nell'arco di cinque anni o in modo un po' più compatto nell'arco di tre per la scuola media più o meno si possano nelle 10-15 ore specificamente dedicate all'educazione civica mettere in sequenza due o tre di questi macrotemi all'anno ci serve a dare un po' di unità a quello che poi uno va a pescare nelle varie discipline a quello che salta fuori dai vari progetti progettini che ogni scuola nobilmente e spesso con ottimi risultati già è abituata a mettere in campo e quindi in questo caso diciamo la proposta è quella scusate mi è andata avanti la slide la proposta è come dicevo quella di distribuire nell'arco dei cinque anni questi questi temi e questi elementi e quindi va bene ecco qui scusate ma ho avuto le slide che mi sono partite vi lascio alcuni consigli di lettura per eventualmente approfondire anche ciò che ehm ho lasciato implicito all'interno di questo nostro discorso vi ringrazio per la vostra attenzione e sono a disposizione per le domande degli approfondimenti che potete sapete indicare nel nello spazio apposito che perviene agli organizzatori e eh e quindi io poi le potrò vedere anche mh diciamo con un meccanismo di comunicazione già ben rodato e consolidato con questo tipo di di strumento scusate bevo un goccio d'acqua che abbiamo detto che non si può condividere senza suddividerla qui oltre al mio computer non c'è nessuno e quindi me la condivido per poter poi riprendere la parola e rispondere alle vostre domande in attesa che se prendano forma semplicemente rilancio le due idee fondamentali quindi subito costituire questa commissione costituire questa commissione che intanto presidi in modo progressivo la costruzione di questo curricolo di istituto di educazione civica in secondo luogo in secondo luogo ehm fare una prima prova nel primo anno mettendo assieme sia quello che emerge dalle discipline sia provare comunque a organizzare i macrotemi significativi quelli che stanno nella legato B e C ehm distendendoli per i tre o per i cinque anni secondo che siamo nella secondaria di primo nella secondaria di secondo verificare la tenuta di questo di questa prima ipotesi sperimentarla per il primo anno perché per il primo anno non immagino ci siano chissà quali tempi per fare molto altro prevedere una formazione specifica anche per valorizzare e questo per me scusate se ci torno ma è veramente importante il contributo specifico del magistero della Chiesa l'idea che le scuole cattoliche arriveranno al termine di questa sperimentazione triennale avendo un proprio modello di educazione civica che abbia un'anima un respiro una saggezza una saggezza da questo punto di vista diciamo è la speranza che vorrei affidare al vostro lavoro e poi naturalmente scritto in prima ipotesi questo curriculum quindi indicando indicando obiettivi e traguardi a questo punto anche e qui vado a intercettare la prima delle domande che vedo anche specularmente a ragionare sugli strumenti di valutazione allora quali strumenti di valutazione per l'educazione civica perché tra l'altro questo è un problema che fino adesso si è posto in modo relativo perché c'era l'indicazione di valutare gli apprendimenti in cittadinanza e costituzione c'è stata l'indicazione negli ultimi due anni che questi potevano essere oggetto di riflessione e discussione anche nell'esame di stato ma fondamentalmente mancando delle linee guida con i contenuti di riferimento più o meno uno diceva bravo ragazzo sa stare con gli altri e così via allora io andrei fondamentalmente per la valutazione dell'educazione civica a lavorare a lavorare simultaneamente su atteggiamenti e consapevolezze culturali perché il fatto di fare una valutazione poi è chiaro che quello che viene fatto nelle singole discipline avrà anche un output valutativo che il coordinatore questo c'è scritto nella legge le linee guida sono un po' più oscure su questo ma la legge da questo punto di vista è abbastanza chiara diciamo quello che è possibile fare per me quindi quello che si fa nelle varie discipline avrà un suo spazio valutativo juxta propria principia cioè se lo fai in scienze perché parli dell'ambiente con categorie di tipo scientifico sarà il prof di scienza a decidere come valutarlo e darà conto di una di una quota della valutazione al coordinatore dell'insegnamento per la valutazione specifica di quella parte affidata ad uno degli insegnanti anche magari d'accordo con qualche collega ma ad uno degli insegnanti che in qualche modo dovrà dare l'ossatura portante al percorso di educazione civica io lavorerei molto certamente sul fatto che uno deve sapere è importante sapere quel che è opportuno sapere ed è bene non ignorare quello che invece sarebbe da sapere ma su consapevolezze e atteggiamenti agiti allora consapevolezze significa significa soprattutto in riferimento ai grandi temi ai grandi principi penso alla costituzione penso a dichiarazione universale dei diritti dell'uomo quindi uno deve conoscerli ma anche essere consapevole di cosa vogliono dire e comunque in passato qualcosa si faceva interagire la valutazione della cittadinanza e costituzione col voto di condotta io non non creerei una commissione così stretta però il fatto che qualcuno dia testimonianza della capacità di una partecipazione responsabile di saper lavorare in gruppo di essere un leader positivo e cose del genere da un certo punto di vista a mio avviso entra nei criteri di valutazione i voti c'è una domanda i voti relativi ai tre nuclei vanno sommati e si fa una media allora io non sono molto amico delle medie poi uno se proprio è così amico delle medie almeno faccia delle medie ponderate in modo tale da non sommare le pere con le mele no e quindi in questo senso allora è chiaro che così come quando noi valutiamo una disciplina noi consideriamo diciamo prima di tutto i nuclei generativi della disciplina cioè per dire io per dare un voto adesso l'università in pedagogia ma torniamo al liceo così mi sento giovane e per dare un voto in filosofia per dare un voto in filosofia poi rispondo alla domanda sugli insegnanti di religione per dare un voto in filosofia è chiaro che uno mi doveva avere studiato Platone Aristotele Sant'Ommaso tutto quello che abbiamo fatto però poi io avevo una mia valutazione anche stratificata cioè il fatto che uno avesse sensibilità capacità di andare a fondo nei problemi o che altro poteva da un certo punto di vista pesare di più della media dei voti sulle singole conoscenze di cui uno nel corso dell'anno ha dato conto in modo più o meno significativo quindi in questo senso così come per le discipline ciascuno di noi ha la saggezza di fare comunque una media ponderata se proprio di media si deve trattare lo stesso deve fare l'insegnante di educazione civica IRC ed educazione civica guardate questo per me è un tema che mi appassiona particolarmente anche perché mi occupo di didattica dell'IRC io insegno didattica dell'IRC in quattro istituti di scienze religiose e quindi è un tema che ho nella mente anche per altre ragioni allora a mio avviso senz'altro l'insegnante di religione può portare un contributo all'educazione civica può essere il responsabile dell'insegnamento di educazione civica su questo qualche ho qualche dubbio ho qualche dubbio primo per una questione pragmatica secondo per una questione di tipo istituzionale cioè voglio dire l'insegnamento di educazione civica prevede che all'interno del consiglio di classe vi sia un insegnante che ne sia il coordinatore o referente che è anche quello che quando si va in scrutinio proporrà la valutazione cioè farà sintesi dei vari contributi dei vari insegnanti allora che quando io ho detto non vi rifaccio vedere lo schermino tanto ce l'avete in terra ce l'avete già ve lo ricordate quando io ho detto che si raccolgono i contributi di tutte le discipline io intendo tutte le discipline compresi le scienze motorie compreso l'insegnamento della religione cattolica cioè non ci sono discipline di serie A o di serie B e quindi in tutte le discipline io posso veicolare valori di cittadinanza e quindi anche l'insegnante di religione cattolica e quindi l'insegnante di religione cattolica può anche dedicare un modulo specifico a IRC e cittadinanza e personalmente sarebbe strategicamente utile e importante che lo si facesse io consiglierei se ce ne sono tra i presenti e gli insegnanti di religione di farlo quindi fare un modulo anche proprio su IRC e cittadinanza in cui per esempio anche alcuni temi della dottrina sociale della chiesa entrano in recto come oggetto di insegnamento spero non solo per gli insegnanti di religione perché io credo che in una scuola cattolica la dottrina sociale della chiesa deve essere il pane quotidiano di tutti i docenti però come si dice a Bologna piuttosto che Nietzsche ma è piuttosto cioè almeno l'insegnante di religione non si dimenticherà del magistero della chiesa allora certamente l'insegnante di religione quindi può dedicare uno spazio all'insegnamento dell'educazione civica e anche comunicare al docente coordinatore al docente coordinatore un elemento di cui tener conto nella valutazione naturalmente l'insegnante di religione non è detto che abbia tutti gli studenti per lo più c'è qualcuno che non si avvale dell'insegnamento specie nella secondaria di primo e più ancora di secondo grado diverso è il discorso nella scuola cattolica in cui può esserci anche il vincolo di avvalersi di questo insegnamento però qualcuno può fare motivata richiesta in senso contrario e quindi da questo punto di vista però se l'insegnante è uno dei docenti che contribuisce all'insegnamento il problema non si pone perché darà elementi valutativi che valgono per gli studenti che si avvalgono nell'insegnamento per quello che riguarda invece il responsabile dell'insegnamento bisogna che abbia la possibilità di svolgere un certo numero di ore di lezione di educazione civica in quella classe si possono studiare anche delle formule per cui chi svolge le ore di lezione di educazione civica non usa solo le sue ore anzi direi che dal punto di vista organizzativo una buona soluzione può essere quella che diciamo in un monte ore annuale considerato flessibile di tutte le discipline come dice il DPR 27599 i donatori di ore e i fruitori di ore cioè che insegnano educazione civica non necessariamente sono gli stessi cioè uno può donare qualcosa di più di quello che riceve l'angelo ci insegna che questo va anche bene quindi può essere che ci sia un insegnante che per svolgere un insegnamento di educazione civica un po' più robusto e strutturato usa anche qualche ora in più di quelle che avrebbe di per sé nel quadro orario per la propria disciplina perché qualche altro docente in qualche modo rinuncia cioè invece di fare lui stesso educazione civica in quelle ore lo affida al collega questo si può fare cioè è la logica della sperimentazione ex articolo 6 di PR 27599 cioè dell'autonomia scolastica quindi questo certamente si può fare che l'insegnante che fa le 15 ore di educazione civica in una determinata classe sia quello di religione ecco questo un po' lo sconsiglierei quindi in questo senso anche perché la norma indica tra gli insegnanti da privilegiare in questo senso quelli di area storico geografica per la secondaria di primo grado e quelli di area storico giuridica per la secondaria di secondo e quindi in qualche modo il docente responsabile della disciplina dovrebbe fare riferimento a quell'area ecco io con questo spero di avere dato qualche indicazione utile sto guardando la chat per vedere se ci sono altre domande ecco ce n'è una infatti bene attività extracurricolari possono essere fatte valere come educazione civica sì cioè a questo punto quando io ho detto progetti e progettini che mediamente in precedenza noi collocavamo all'interno del piano triennale dell'offerta formativa ma non andavano in quota a nessuna delle discipline in senso stretto a meno che poi qualcuno non decidesse che di qualche progetto se ne faceva qualcosa per una determinata disciplina in realtà se decidiamo che questi progetti diventano parte strutturante dell'insegnamento di educazione civica li possiamo mettere in quota all'educazione civica e quindi anche alle 33 ore del monteore complessivo di educazione civica ovviamente se il progetto che so su scrittura creativa che riguarda la legalità e la mafia entra nell'educazione civica oltre a imputare le ore di quel progetto all'educazione civica io poi devo valutare gli apprendimenti quindi è chiaro che tutto ciò che entra nelle 33 che possono essere anche 35 anche 40 ore perché c'è almeno 33 è la legge nelle almeno 33 ore di educazione civica evidentemente però poi deve contribuire alla prescritta valutazione dell'educazione civica per cui non è che facciamo il progettino stile extracurricolare che poi valutiamo come valutazione complessiva del progetto ma senza andare a valutare i singoli apprendimenti dei singoli gli apprendimenti dei singoli studenti se il progetto entra nell'educazione civica poi c'è qualcuno degli insegnanti ovviamente quello che gestisce il progetto che si porrà il problema anche di valutare gli apprendimenti questo che per me è una buona è una buona prassi sarebbe buon costume a prescindere cioè facciamo un bel progetto perché speriamo che gli studenti imparino qualcosa non che alla fine siano più ignoranti di prima quindi alla fine possiamo valutare troviamo anche il sistema di valutarli in questo caso se inseriamo il progetto nell'educazione civica è importante che per quel progetto ci sia anche una valutazione specifica degli apprendimenti bene intanto vi ringrazio per queste domande molto stimolanti che diciamo concrete si vede che state ragionando sulle cose per farle per realizzarle quindi questo mi fa molto piacere perché dà un senso più forte al nostro convenire in questa sede e quindi sono molto contento molto contento di questa anche vostra partecipazione ancorché con le modalità possibili nel mondo virtuale che mi sia permesso di chiudere con una battuta virtuale evoca il termine virtù allora in questo mondo virtuale cosa c'è di virtuoso uno potrebbe dire beh intanto l'esercizio della sacra virtù della pazienza che come diceva San Tommaso d'Aquino è parte potenziale della virtù della fortezza e quindi il suo esercizio è altamente meritorio e poi si tratta diciamo di diventare di giorno in giorno più capaci di abitare uno spazio virtuale che come dice la legge sull'educazione civica l'articolo 5 della legge 92 del 2019 è anche uno spazio di cittadinanza quindi io cato a voi per avere condiviso assieme questo spazio di cittadinanza virtuale che speriamo sia anche virtuosa per il vostro lavoro di insegnanti e di insegnanti di educazione civica vi auguro buon lavoro e vi auguro un buon anno scolastico e un buon triennio di sperimentazione di questa educazione civica grazie a tutti